Sì, un punto devo dire importante, è una gara molto difficile oggi, si poteva e si doveva fare meglio soprattutto dal punto di vista dello sviluppo, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tanti errori, tante scelte di gioco e di gesto tecnico, però ho visto una squadra che è riuscita a soffrire con il giusto atteggiamento, non era facile, infatti era una squadra che si difendeva a base molto bene, poi ripartiva molto bene, faceva molto male al giocatore di gamba davanti, quindi è soddisfatto a metà perché in primo tempo un po' meglio noi, in secondo tempo un po' meglio loro, peccato perché avevamo dato in vantaggio due volte, però questo è il campionato, l'importante è entrare subito nel mondo del campionato, dove tutte le parti sono difficili, dove tutte le parti che bisogna giocare, tutte fino in fondo e oggi siamo subito riscontrati con la realtà campionato, però ho visto l'atteggiamento giusto nella difficoltà, oggi abbiamo avuto tanti momenti difficili durante la partita, li abbiamo affrontati con il giusto atteggiamento, quindi questi sono segnali positivi, nonostante dovessimo e potessimo fare meglio, soprattutto in fase di sviluppo, e quindi sono convinto che la squadra adesso piano piano crescerà, l'importante è adesso trovare continuità di giochi di partite, di minuti per tanti giocatori, per trovare un po' subito la condizione psicofisica per poter dopo comunque affrontare tutte le squadre con i nostri principi di giochi.